Buongiorno a tutti, sono qui per rinnovare l'invito fatto anche giorni fa di utilizzare questi sistemi per parlare della città. Adesso va molto in voga la politica, si parla di politica, benissimo, potete usarlo per la politica, ma potete usarlo anche per dibattiti che hanno a che fare con la città, per esempio la città sicura, un argomento che interessa molti. Utilizziamo questi sistemi che costano praticamente zero. Cosa occorre? Una webcam esterna, possibilmente una cuffia a microfono e una buona connessione, comunque un computer non datato. Magari non avete tutti questi requisiti, ma almeno un computer un po' recente e un microfono sarebbe necessario. Se uno non ha la webcam, al limite potrebbe usare un portatile che di solito c'era già dentro. Io ho cercato di postare un po' questo messaggio su alcune pagine, quelle di Busto soprattutto, in particolar modo quelle di Busto, chiedo aiuto anche a voi. Qualcuno magari lo apprezza, qualcuno no, qualcuno mi insulterà, però io continuo in questa direzione affinché qualcuno dei gruppi, che in questo momento stanno parlando di candidati, così utilizzino questi mezzi. Si potrebbe anche fare un confronto tra candidati utilizzando questi sistemi. È solo una questione di organizzazione. Questo è un sistema magari un po' più ristretto rispetto a Hangout, che offre molte più possibilità, ma Hangout è un pochettino più complicato, soprattutto per chi non l'ha utilizzato qualche volta. Ecco, come vedete è utilizzato molto dagli americani. È utilizzato molto dagli americani, ma possiamo utilizzarlo tranquillamente anche noi. Questi sono tutti i dibattiti che ci sono in corso in questo momento. Qui abbiamo quelli che saranno nei prossimi giorni, per cui abbiamo il nostro. Che dire d'altro, il sistema è abbastanza semplice da utilizzare. In ogni caso, se volete fare le prove, io sono a disposizione. Domani sera, altro appuntamento alle 21, ci proviamo. La tematica già la sapete, già l'ho detta. Si parlerà appunto di cosa vorresti dire al nuovo sindaco di Busto. Comunque si può parlare anche d'altro. L'importante è parlare della città, dei problemi nella città e utilizzare questi mezzi che sono costo zero e quindi a disposizione di tutti. Chiedo il vostro aiuto affinché qualcuno non si stanche e me li cancelli perché, come ripeto, è un modo diverso, simpatico per tenersi in contatto perché la pagina Facebook è sicuramente utile, molto utile, però insomma se possiamo anche avere un confronto diretto è meglio. Tenendo presente che in Hangout puoi anche scambiare, come si può dire, testi, poi hai altri orizzonti. Ogni sistema ha i suoi pro e il conto. Viene registrato un video al termine del nostro incontro che è pronto, subito disponibile e postabile eventualmente sulle proprie pagine. Per cui non so se ci sono riuscito a convincervi, ma partecipate. Grazie, qui Giorgio di Booster Web. Ah, un'ultima cosa, metterò il link dieci minuti prima sulla pagina Twitter, quindi se vi collegate alla pagina Twitter troverete il link o magari lo posso postare anche su quelle che sono le pagine più utilizzate qui a Booster Seeds. Grazie e saluti.